Si avvicina uno degli appuntamenti classici della primavera musicale italiana, quella del concertone del primo maggio, al quale potrebbe partecipare una giovanissima band pesarese, i Revenant, che abbiamo oggi qui in studio, ma che per partecipare a questo evento hanno anche bisogno della collaborazione della città. Abbiamo bisogno in particolar modo del sostegno della città, proprio perché siamo una delle prime band del territorio a partecipare ad un contest di questo livello nazionale. Siamo molto interessati a portare la voce pesarese e la scena musicale pesarese anche nel resto dello stivale. Speriamo che grazie a un contributo dei nostri cittadini, in generale della nostra provincia, riusciremo a raggiungere il nostro scopo, ovvero quello di andare al concertone del primo maggio. Noi siamo una band giovanissima, ci siamo infatti conosciuti al liceo musicale di Pesaro. Abbiamo tutti vent'anni e grazie al liceo musicale siamo riusciti a conoscerci, avere quella spinta in più per provare a fare qualcosa di reale, di concreto nella nostra vita. Infatti ci siamo tutti trovati molto bene e abbiamo iniziato a suonare insieme, inglobando le varie sonorità che ognuno di noi riusciva a portare nella band e avendo quindi una formazione magari che non è totalmente comune nelle band giovani, perché proveniamo tutti da ambienti particolarmente diversi e quindi siamo riusciti a creare qualcosa di nuovo, di fresco a nostro parere e che sembra funzionare, almeno per il momento. Siamo una band giovane però con molta voglia di fare, quindi ci stiamo muovendo sempre nel nostro territorio anche al di fuori in altre regioni, per esempio siamo stati a Pisa, avremo anche altri momenti in altre città, sicuramente Milano, Roma. Principalmente ora, il 2 di aprile, ci sarà un evento al Miralfiore dove ci hanno chiamato per suonare anche per organizzare le varie scalette. Il 14 apriremo un emergente di Roma a Fano, in un locale dove ci hanno contattato. Stiamo preparando vari brani, soprattutto anche col nostro collettivo che abbiamo creato con altre persone, ci sono altri tre elementi all'interno di questo collettivo. Stiamo preparando un piccolo pack di tre canzoni intanto per poi concentrarci sulla nostra band reale, quindi Revenant, dove abbiamo già registrato due inediti e abbiamo sempre qualcosa di nuovo da proporre come ad esempio colonne sonore per film, comunque siamo stati chiamati anche da altri ragazzi per partecipare a queste altre attività, quindi abbiamo un po' tutto in ballo a livello musicale. Come si fa per votarvi? C'è un link molto semplice che vi porta direttamente al nostro specifico spazio all'interno del sito del Primo Maggio dove appunto c'è un semplicissimo tastino con un pollice in su, normalissimo like, basta premere quel tasto lì e appunto ci regalerete un voto. Io non sto a te dirlo! Io non sto a te dirlo! Grazie.